musica musica si mettono davanti 2 guarda due cilologi roni terza posizione di f***** rosa posizione roma Bella, si Allora, ti ho visto veramente bene Complimenti Non era lei Prima donna Allè, 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 allè Allè, allè, allè No, no Hai tizzi L'ho volata ragazzi Forza, forza Fino in fondo Tanti anche E intanto ricordo Che è comparsa A tutti gli atleti Che potete uscire Del servizio massaggi Offerto da Chinesis Sta arrivando la prima donna Che è Eugenia Vasconi Che è l'interno E venite No, no Facciamo con la stagione Allora, signori Non perdete l'occasione Di farvi manipolare Le vostre amiche Anna e Asia di Chinesis Sport Va bene Manipolare va bene Non è Non siamo così Dai, massaggiare Massaggiare Intanto c'è Eugenia Vasconi Che si La Puma Race 2015 Non c'è l'ultima prova Del circuito del Piede d'Oro Sta arrivando con la sua classica falcata finale Bella, così va bene Ci sarebbe fatto diritto Tra la seconda e la terza zona Che però Non sono ancora arrivate All'interno della pista Allora, a me non vede Fino adesso non c'è Eh, ma di tanto che sta Tanto in questi termini così Musuiti O i musuali Allè, forza, forza, forza Ragazzi, forza, forza, forza Forza Allè, 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 allè Allè Allè, forza, ragazzi Forza, forza Vieni in fondo Non vede ancora La seconda donna All'altro la prima Che non la seconda Allè, forza, forza Vabbè, Eugenia Vieni qui intanto Vieni, vieni in mezzo Vieni, non vengo Ah, sì Sta arrivando la seconda donna Cizze, cizze Allora, cizze Mi schietti Non la vedevo da lontano Che sta facendo Con una scuola Va bene, si vede Che si vede da male Stamattina Cizze, cizze In seconda donna Eugenia Una bella gara Che è arrivata In tempo E con una bella farcata Ecco Non viaggiare in mezzo al prato Che non vogliono Non vogliono Che si entri nel prato Dica che oggi Due piccoli Belli Importanti Con una bella Sì Una bella Perfetto Allora Adesso mi muovi qui Perché ti faranno Una fotografia Per cui Dov'è la Dov'è Cinzia Rischetti C'è la velocità Sì Cinzia, cinzia Rischetti Dov'è che è? Dov'è data a finire? Guardami La terza La terza donna Che non vedo ancora E credo che sia Valeria Strati Terza donna Riconferma Se tutto va bene La terza posizione Con cui stata ieri Nel Corsi Rona Quindi ormai Ha tornato la terza posizione La Cinzia Dov'è? È qui Cinzia Vieni qui No no Devi venire qui Non puoi Devi fare anche la fotografia Vieni qui Sì l'ho fatto sì Che donna Allora Un museo imprendibile Però comunque Ha fatto la tua casa No Allora 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 Allora